Anche in questo caso non essere c'è sufficiente. La verità la possiamo pure accertare ed è importante accertare la verità di quello che è successo, ma qui bisogna fare un passo un po' più avanti perché le persone che sono state colpite e danneggiate hanno bisogno che lo Stato non le risarcisca perché nessuno può risarcire o nessuno può compensare la perdita di un familiare, la perdita di un figlio, la perdita di un cittadino in questo Paese. Non c'è compensazione né finanziaria né di altri sussidi, su questo non c'è dubbio, però perlomeno c'è che ci sia il riconoscimento da parte dello Stato di un momento di verità perché ce ne sono tanti punti oscuri e non è il caso che si aggiunga anche questo nella storia repubblicana di questo Paese. Grazie. 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 Grazie.